Ore senza corrente elettrica ed ancora piccoli blackout nel Tarantino, in particolare nel Borgo, nella mattinata di mercoledì 30 giugno. Difficile far fronte al caldo di questi giorni senza la corrente elettrica, che permette di tenere accesi i frigoriferi e soprattutto condizionatori. Per questo, da tempo, i tecnici dell'Enel sono al lavoro per limitare i danni di diversi guasti sulla linea che metterebbero in difficoltà uffici ed esercizi commerciali in differenti punti della città e non solo, dato che i blackout si sono verificati nell'ultima settimana in tutta la regione, colpendo soprattutto il Salento. Forte caldo e sbalzi termici potrebbero essere all'origine della mancanza di servizio, che inevitabilmente genera disagi e lamentele.